domani al teatro dell'opera di roma tornerà in scena la norma dopo il successo riportato sabato scorso 4 gennaio il capolavoro belliniano sarà ancora interpretato da anita cerquetti giulio neri e franco corelli dopo il burrascoso inizio alla prima assoluta di norma e dopo le vicende che hanno molto interessato la stampa la stagione dell'opera ha ripreso felicemente il suo corso con un cartellone ricco di interesse valendosi anche della collaborazione di grandi teatri lirici italiani come il san carlo e la scala alla scala la stagione è cominciata giusto un mese oggi sono già andate in scena un ballo in maschera lohengrin mates il pittore cenerentola e tre giorni fa adriana lecubreur fra pochi giorni cominceranno gli spettacoli anche alla piccola scala che è alla sua terza stagione si aprirà con il conte orì una delle ultime opere di rossini che viene allestita con la regia di orazio costa questi sono i teatrini delle scene per il conte orì di rossini come vedete si ispirano ad un gusto gotico secondo la maniera dei libri d'ore naturalmente procede allo stesso tempo la preparazione dei cantanti interpreti del conte orì graziella asciutti fiorenza corsotto teresa berganza juan honsina franco calabrese e rolando panerai dirige nino sanzugno o Grazie a tutti.